Avete mai avuto un momento nella vostra vita in cui vi siete sentiti completamente persi e tutto vi sembrava una gran confusione? Non voglio certo immischiarmi nei vostri affari, ma è proprio di un momento del genere che ci parla la commedia e del percorso che Dante dovrà affrontare per superarlo. Oggi analizziamo il primo canto dell'Inferno che ha la funzione di proemio, introduce cioè l'intero poema. Con questo canto Dante si pone tre obiettivi, assicurare la simmetria tra le tre cantiche, infatti sono tutte composte da 33 canti, presentare al lettore i personaggi principali del poema, Dante e Virgilio, mentre Beatrice viene chiamata in causa solo nel secondo canto, e soprattutto spiegare al lettore il motivo per cui l'opera è stata concepita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Dante scrive di essersi smarrito in un forte momento di depressione a metà della sua vita, intorno ai 35 anni. È però consapevole di non essere il solo a vivere un momento del genere. infatti sceglie di mettere da subito in relazione noi e lui. Infatti scrive, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai. In questi primi versi troviamo tutto il senso dell'opera. Si tratta dell'esperienza vissuta da un singolo uomo, che è però anche un'esperienza collettiva dalla quale chiunque può ricavare beneficio. Per Dante ricordare momenti difficili è duro quasi quanto viverli. Ci dice infatti che dir qual era, cioè raccontare quello che gli è successo, è cosa dura, è difficilissimo. Sono sicuro che tutti voi avete vissuto almeno una volta un'esperienza simile. Notate adesso l'insistenza sul suono S, inesta selva selvaggia e aspra e forte. Questa figura stilistica, molto utilizzata nella commedia, si chiama allitterazione. Inoltre Dante accosta il sostantivo selva al corrispondente aggettivo selvaggia. Si tratta di una figura retorica conosciuta come poliptoto, una parola ripetuta in funzioni sintattiche diverse. Dovete pensare a questi strumenti retorici come l'unico modo che Dante aveva, in assenza del cinema, per farci immaginare al meglio le sue descrizioni. La ripetizione della S non ci dà forse l'impressione di un luogo poco tranquillo? Dante ci invita a camminare insieme a lui nel regno dell'aldilà, ma sa di chiedere qualcosa di tanto inconsueto e decide di metterci a disposizione da subito dei paragoni con la vita reale. Questo è il motivo per cui la similitudine è una delle figure retoriche più ricorrenti nella commedia, e in questo canto ce ne sono due. Vediamo il primo. La similitudine è un paragone tra due elementi, il primo dei quali è introdotto da come e il secondo da così, nel primo esempio, che corrispondono a qual e tal nel secondo. Dante racconta di essere riuscito a calmare la sua paura solo dopo aver visto una montagna illuminata dal sole, la montagna del purgatorio. È qualcosa di simile a quando noi diciamo «finalmente si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel». Per farci comprendere appieno la sensazione di paura provata poco prima, Dante usa quindi la prima similitudine. Si paragona a un naufrago che, una volta raggiunta la riva, si volta a guardare il pericolo appena scampato. Allo stesso modo Dante si volse a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Le tersine che seguono sono tutte costruite su incontri inattesi che interrompono la momentanea serenità. Improvvisamente Dante vede piombare davanti a sé una lince che gli blocca il cammino. Ed ecco, quasi al cominciar delerta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. La lince è descritta come leggera e presta con due sinonimi legati da una congiunzione, una figura retorica conosciuta come dittologia sinonimica. A distanza di qualche verso la paura di proseguire gli fa addirittura pensare di tornare indietro nella selva buia. Vedete questo bisticcio di parole di suono simile ma significato diverso, volte e volto? si tratta di un'altra figura retorica, la paranomasia. Nonostante l'apparizione della lince, per Dante sembra ritornare la speranza. E mattino presto, il sole sta sorgendo ed è primavera. Temp'era dal principio del mattino, e il sol montavano su con quelle stelle, che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Si ca bene sperar mera cagione di quella fiera la gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Familiarizziamo con la scrittura di Dante. In tutta la commedia Dante utilizza giri di parole per dare delle indicazioni temporali. In retorica questa si chiama perifrasi. Sono sicuro che la conoscete abbastanza bene. Quante volte avrete utilizzato giri di parole con i vostri genitori o con i vostri insegnanti? Questa perifrasi ci lascia la sensazione che le cose stiano migliorando, ma in realtà ha qualcosa di terribile alle porte. Per scoprire che cosa, vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.